Io sono qui che aspetto il tuo secondo romanzo. Non vedo l'ora di aggerlo. Volevo solo dire che siete la coppia migliore che conosco. Ti amo da morire, Margie. Andrea. Margherita. A chi dobbiamo la nostra fedeltà? Agli altri o a noi stessi? Scusa. Di cosa? E tu sei felice? Ma che domanda è? Volevo fare la redetrice. E perché hai rinunciato? La vita è fatta di scelta. Cos'è successo in quel bale? Niente. Sono cinque anni che io penso soltanto a te. E tutto quello che riguarda me, sogni, ambizioni, progetti, tutto, fosse in secondo piano. Che cosa vuoi? Io non so star senza te. Ma è un po' owo sarebbe la prima. E adesso ti è quello che sei. E io non so starà. E io tu sei felice. E io ti asi. E io ti asi. E io ti asi. Grazie.